Con il favore di amministratori pubblici alcuni imprenditori hanno ottenuto dalla regione Molise 100 mila euro per lavori di rifacimento di un impianto fognario in realtà mai realizzati. A seguito delle risultanze investigative della DIGOS della Questura di Sernia, sei le persone denunciate in stato di libertà, abuso di ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e rivelazione di segreti di ufficio in concorso tra loro i reati contestati. Sarebbero stati messi in atto in un comune della provincia Pentra. Nello specifico e sulla base del combinato disposto tra attività investigativa e la corposa mole di materiale documentale acquisito presso l'ente comunale, l'attuale è l'ex sindaco. Il RUP, figura apicale nell'ambito degli appalti pubblici, nonché responsabile dell'area tecnica ed il direttore dei lavori del comune, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per abuso d'ufficio. Al RUP e al direttore dei lavori contestata anche la rivelazione dei segreti di ufficio. I due imprenditori, titolari della ditta appaltatrice e della ditta subappaltatrice, informa ancora la polizia, si sono resi responsabili del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il quadro che emerge dunque è quello di un rodato scenario di malaffare che coinvolge sinergicamente amministratori, tecnici e imprenditori. L'intero carteggio è tuttora al vaglio del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Iannitti. Spetterà a lui lo sviluppo dei capi di imputazione e delle opportune determinazioni in qualità di autorità giudiziaria inquirente.